Ci siamo Fringuelli, il 104esimo Giro d'Italia sta per partire, partirà infatti sabato da Torino e quest'anno vanta una lista di partenza piena di super campioni. Andiamo quindi a vedere quali sono i 9 atleti da tenere sotto controllo durante il Giro d'Italia. Il mio favorito, l'ho già detto, è sicuramente Simon Yates del team Bike Exchange che ho avuto il piacere di osservare dal vivo durante il Tour of the Alps dello scorso aprile che tra l'altro ha vinto lo stesso Simon Yates e devo dire che è in formissima. Ricordo che nel Giro 2018 Yates ha vinto ben tre tappe tenendo la maglia rosa per 13 giorni cedendola però a tre giorni dalla fine soccombendo a un attacco a lungo raggio di Chris Froome che poi ha vinto la gara. Altro corridore molto forte che ho segnato sul mio taccuino è Egan Bernal della Ineos Grenadiers. Il colombiano avrebbe dovuto già correre il Giro d'Italia per la prima volta nel 2019 però a una settimana dalla partenza cadde. Non ha partecipato al Giro, è andato al Tour de France e nel 2019, beh, incredibilmente l'ha vinto. Anche l'anno scorso la stella della Ineos ha avuto un'infortuna alla schiena che gli ha impedito di finire il Tour de France. I dirigenti della Ineos hanno quindi saggiamente deciso di alleggerire un po' la pressione di Bernal mandandolo a correre in Italia per cercare di riconquistare un successo molto importante. Un altro vincitore che questa volta potrebbe davvero farcela a vincere il Giro d'Italia è Michelanda del team Bahrain-Victorious. Ha avuto molta sfortuna questo corridore quando correva per la Stana, per la Sky e per la Movistar perché lo spagnolo in effetti ha sempre avuto davanti a sé corridori più blasonati che in qualche modo gli hanno sempre tarpato le ali. Questa volta però il 31enne che corre per la Bahrain-Victorious ha tutta la squadra per sé questa possiamo dirlo è la sua stagione e quindi ha tutte le caratteristiche per vincere davvero il Giro d'Italia. Ovviamente anche se ha avuto un po' di sfortuna non posso non parlare di Vincenzo Nibali della Trek Segafredo ricordo che Vincenzo ha vinto per ben due volte il Giro d'Italia sia nel 2013 che nel 2016. Oggi ha 36 anni però nonostante questo e soprattutto nonostante la voglia che ha avuto dopo l'infortunio al polso di rimettersi in carreggiata grazie a un intervento chirurgico e a un rinforzo in carbonio segno è che ha tantissima voglia di farsi vedere ha tantissima voglia di fare bene è uno di quei corridori che non va mai sottovalutato anche perché l'esperienza gioca dalla sua parte. Un altro corridore che mi piace tantissimo è Remco Evanepol del team Deusenic Quickstep. Allora su questo ragazzo dalle potenzialità incredibili c'è una sorta di nebbia che è stata alzata volutamente dalla squadra. Allora ricordiamo che il belga Remco ha dato fuoco a questo sport da quando è passato direttamente dai ranghi junior al World Tour nel 2019. Purtroppo nell'anno del debutto al Giro d'Italia è caduto in un burrone durante il Giro di Lombardia rompendosi il bacino e per quell'anno la sua stagione è finita. La sua squadra come ho detto sta minimizzando molto le sue probabilità di vincere qualche corsa quest'anno anche perché dopo l'incidente ha iniziato a correre in bicicletta soltanto a febbraio del 2021 però io penso che questa cortina fumogena sia stata fatta alzare prevalentemente per allontanare un po' di pressione da questo corridore che lo ripeto è fortissimo. Un altro britannico molto forte è Hug Cartay della EF Education Nippo. Il britannico è finalmente esploso lo scorso anno al Giro di Spagna alla Vuelta vincendo una tappa in cima all'Alto de Angliru una delle salite più dure del mondo e terminando la Vuelta al terzo posto. Nel 2019 al Giro d'Italia il 26enne ha iniziato letteralmente a far girare la testa a tutti grazie ad una corsa molto aggressiva che ha fruttato allo scalatore l'undicesimo posto assoluto. Quindi, tutto sommato dato che la sua stagione è iniziata molto bene ottenendo ottimi piazzamenti non è uno di quei corridori da sottovalutare. Ecco un'altra certezza del ciclismo Jay Indley della squadra DSM Indley è stata una delle rilevazioni del giro dello scorso anno. L'australiano infatti è arrivato all'ultima tappa indossando la maglia rosa ma poi l'ha persa contro Tao Guggenhardt nell'ultima tappa a cronometro individuale. Purtroppo il 2021 di Indley non è iniziato nel modo migliore a causa di alcune malattie e di alcune cadute ma all'avvicinarsi del Giro d'Italia hanno fatto salire notevolmente le sue aspettative perché vuole dimostrare che il risultato dello scorso anno non è stato soltanto fortuna. Lo tengo sotto controllo perché insieme a Roman Bardet salito due volte sul podio del Tour de France Indley avrà in squadra un aiuto preziosissimo per provare a fare qualcosa di importante. Attenzione al russo Aleksandr Vlasov dell'Astana il quale ha concluso al terzo posto il Tour of the Alps è arrivato secondo alla pariginizza quindi la sua forma del 2021 è sicuramente una forma eccellente. L'ultimo pretendente che ho segnato sul mio taccuino fa parte della Bora & Sgro sto parlando di Emmanuel Bachemann che è arrivato quarto al Tour de France del 2019 però quest'anno potrebbe davvero rifarsi di un'annata come il 2020 e chissà che non abbia messo da parte molte ma molte energie per rifarsi nel 2021 proprio al Giro d'Italia. Ok cari fringuelli questi sono i nove corridori da tenere sotto controllo durante tutto il Giro d'Italia. Per oggi quindi è tutto noi ci vediamo sulle strade del Giro d'Italia seguirò qualche tappa per tutto il resto ci vediamo come sempre sul mio canale YouTube buon allenamento e alla prossima ciao!